Gli antichi romani prevedevano il futuro lanciando tre dati. La combinazione considerata più sfortunata era 1-1-1, ovvero niente di ciò che desideri si avvererà. Si chiama il colpo del cane. Quindi Ugo è un bulldog francese, no? È molto delicato, non bisogna stressarlo mai. Non se ne pentirà. Tuo? Ma sai che mi sa che oggi è il tuo giorno affortunato? C'è un periodo qua di merda proprio, infatti non ne parliamo, lascia stare. C'è scritto vetrinaio senza erro. A me sembra una cosa folle. Il bulldog francese è costosissimo, quindi per l'accoppiamento chiederemo qualcosa di più. Appena ho novità ti chiamo, sarà una questione di un paio di settimane al massimo. Va bene? Un paio di settimane al massimo. Sono stronzo te che è quello di tutti! Un uomo di merda, un uomo di merda! Ti voglio proporre un affare molto importante che ci dà un sacco di soldi. Tuo? No. A dopo allora. A dopo. Ok. Ciao. 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 No.